Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornati sul mio canale. Oggi mi vedete a base metà fatta perché voglio parlarvi dei prodotti di Clio Makeup. Quindi prima di iniziare a parlarvi e a mostrarvi in azione i prodotti di Clio Makeup, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è un bottoncino rosso, iscrivetevi, cliccateci sopra, mi raccomando così mi potete supportare con i miei prossimi video e lasciatemi un bel like. All'arrivo almeno di 100 like vi farò vedere un video sulla base di Hourglass, tutta Hourglass, dal fondotinta a tutta la base Hourglass. Quindi se siete interessati a un video così lasciatemi, almeno dobbiamo arrivare a 100 like. Ora però prima di andare avanti vi mostro il correttore che ho acquistato, questo è un correttore che si chiama Oh My Love, io arrivo forse in ritardo però ho visto tante recensioni su questi prodotti e ho voluto provarli di mio perché ne ho sentito parlare male soprattutto della palette. Occhi, la Beauty Love, oddio se ne scappa. Allora iniziamo con il correttore e andiamo ad applicarlo, questo promette di essere un correttore liftante e a lunga durata e ho preso la colorazione numero 1 perché gli altri colori erano finiti e ho lasciato, ho messo il fondotinta sul viso e ho lasciato fuori le occhiaie, come potete vedere sono nere all'interno dell'occhio e ho preso il numero 1 perché gli altri, c'è il numero 7, ci sono tanti colori ma sono troppo scuri per il mio incarnato, quindi vado ad applicare il numero 1 sperando che, vado ad applicarlo anche come base per l'ombretto, sperando che vada bene per il mio incarnato, cioè sicuramente andrà bene per illuminare però proprio per coprire adesso vediamo. Ora vado a prendere un pennello e lo vado a stendere con un pennello, quindi poi così possiamo vedere questo prodotto com'è, lo vado a stendere così mi cancella tutte le imperfezioni per poi andare ad applicare i nostri ombretti, allora io ho già ricreato la mia base, cioè ho messo solo il fondotinta, si non copre proprio al 100% il nero degli occhiaie, cioè voi non lo vedete ma in realtà io lo vedo e vedo ancora il nero degli occhiaie. Allora ragazze, ho applicato il correttore e ho finito la mia base, l'ho steso anche dall'altra parte e purtroppo nel pacco dei prodotti che io avevo comprato da Clio non avevano inserito il blush, io l'ho pagato, non l'avevano inserito, però l'ho risolto, me lo mandano perché si sono accorti dell'errore e quindi non posso farvi vedere il blush, ve lo farò vedere in un secondo tempo. Parliamo del correttore, l'ho steso, è un po' chiaro, va bene per illuminare, ci vorrebbe un paio di toni leggermente più scuri per andare a coprire bene lo scuro delle occhiaie, qui all'interno degli occhi, agli angoli, non so come mai in questo periodo sono sempre piuttosto scure e questo correttore va a illuminare ma è talmente chiaro che non va proprio a coprire, però dai il risultato non è male. Quindi ho messo un po' di terra, ho messo un blush e andiamo ad applicare l'illuminante. Ha fatto anche gli illuminanti, io ho preso la colorazione, la numero 4, la Tokyo Sunrise, è bello perché c'è lo specchietto e abbiamo appunto l'illuminante. Io l'ho sbocciato sulle dita, sulle dita non mi convince più di tanto, vi dico la verità, ora lo prelevo con un pennello a setole abbastanza fitte, questo qua è il pennello di Mulac per l'illuminante e andiamo a vedere un po' come si comporta quando lo applichiamo. Wow! Ok, sbocciato con le dita non rende, sbocciato sul viso rende, perfetto. Ci sono alcuni prodotti tipo Hourglass, così che se tu li swatchi sulle mani, sulle dita non rendono, però sul viso hanno un effetto spettacolare. Quindi l'illuminante è promosso, volevo prendere anche gioiello e mi sa che a questo punto prendo anche gioiello. Devo fare un altro ordine e quindi prendo anche gioiellino perché pensavo che era meno scrivente, in realtà guardate un po' ragazze la scrivenza dell'illuminante di Clio. Allora, li sto testando perché ho visto veramente un sacco di video dove non parlavano benissimo soprattutto della palette, degli illuminanti no. I primi due dicono che sono troppo chiari e sono meno luminosi, ecco, sono un poco luminosi. Mentre la palette ne ho sentito parlare veramente male, lo so che è uscita da tanto, però io ho deciso di provarla adesso e quindi voglio vedere se è vero quello che dicono che non è così buona come dicono. È vero che la palette è un po' piccolina, questo è range di colori, però sta a noi decidere se vogliamo comprarla oppure no. Nessuno ci punta la pistola alla testa, quindi è una scelta libera. Ho sentito dire che addirittura gli shimmer danno reazioni allergiche sugli occhi, che fanno un sacco di fallout, insomma ne ho sentite dire di tutti i colori. Quindi adesso noi andremo ad applicare, andremo a ricreare appunto un make up con questa palette. Allora ragazzi, andiamo a prendere dalla palette il colore genuine, che è il colore più chiaro, ma in realtà su una palpebra come la mia può andare bene come transizione. È chiaro, non è evidentissimo, però per fare la transizione per me va benissimo. Poi sempre con il pennello da sfumatura vado a prendere curing e lo porto sempre nella piega dell'occhio. Ok, ora vado a prendere il nero, che si chiama Strong, e lo porto all'angolo esterno dell'occhio per intensificare appunto l'angolo esterno, la V esterna dell'occhio. Ora prendo sempre con un pennello da sfumatura Kind e lo porto, lo unisco insieme al nero per dargli appunto una sfumatura, non voglio che sia troppo intenso, quindi lo vado a sfumare con questo marrone freddo, appunto Kind. Ora vado a prendere con un pennello piatto genuine e lo porto sotto l'arcata sopraccigliare. Intanto controllo ragazze, non c'è fallout, quindi i matt passano la prova. Ora vado a prendere Independent e con il dito lo porto alla fine dell'angolo esterno dell'occhio, fino a metà occhio. Questo è un colore veramente stupendo. Ok. Cambio dito e prendo Grace Pool e lo porto all'inizio dell'occhio. Ora vado a riprendere ancora un po' Independent per intensificare il violetto e il lilla all'angolo esterno dell'occhio. Ragazze, zero fallout. Ora prendo un pennellino a lingua di gatto, prendo il nero Strong e lo porto sotto la rima ciliare dell'occhio. Il nero, ragazze, è intensissimo. Grazie. 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 Ragazze, ricontrollo per sicurezza zero fallout. Ora vado a prendere l'illuminante e lo porto all'angolo interno dell'occhio e sotto l'arcata sopraccigliare. Ragazze, questo è il make-up finito. Allora, ragazze, cosa dire di questa palette? Allora, innanzitutto parliamo della palette che è la più chiacchierata del web. Io non ho trovato, o sarò l'unica perché tutti la bocciano, ma non lo so perché. Io non ho trovato niente. Ho usato un po' di colori, non è che non ne ho usati. Ho usato uno, due, tre, quattro, cinque. Ho usato cinque colori per un make-up e devo dire che nessuno di questi mi ha fatto fallout, mi ha fatto macchia. io ho la pelle chiara e questo colore qui che si chiama Genuine, che è molto chiaro, io comunque, essendo leggermente tende, non è proprio un chiaro da mettere sotto l'arcata sopraccigliare, l'ho usato come transizione nella piega, come avete potuto vedere dal video e, cioè, è bellissima questa palette. Ho ricreato un make-up, a me piace veramente tanto. Anche il nero è molto pieno, è molto saturo, non lascia la macchia, non lascia... Cioè, è bellissimo, ma anche gli altri colori lilla che ho utilizzato, independent, è stupendo. non mi ha fatto fallout, perché tanti dicono che i colori shimmer metallizzati di Clio fanno fallout, danno problemi sulla palpebra. Cioè, io ne ho usati due di shimmer e cosa ho? Ho preso tutte e due shimmer che funzionano, che non danno problemi, o hanno riformulato la palette, però io non ho sentito dire niente in giro, ma io posso dire che questa palette è veramente, veramente eccezionale. A me piace questo make-up. È un make-up freddo con dentro questo colore qui che è leggermente caldo nell'angolo interno dell'occhio, ma secondo me è stata Dio questo colore. È bellissima. Adesso io non so la resa, la tenuta di questa palette, ma posso dire che io l'ho usata, non ho avuto fallout, non ho avuto niente. Non mi sta dando problemi sulla palpebra, quindi non sento bruciare, non sento pizzicare. Cioè, costa 57 euro e 50, una cosa del genere. È un po' tanto per questi ombretti, sono piccoli. Cioè, a differenza della First Love, gli ombretti qui sono più grandi, ma ce n'è meno. però questa costa sui 30, non mi ricordo, e questa costa così. Però, ragazzi, veramente devo dire che nessuno ci obbliga a comprare i prodotti. Siamo noi che decidiamo di comprarli, oppure no. Io posso dire che sono veramente contenta. Sono sempre stata frenata a comprarla per le recensioni ultra negative di questa palette, ma io posso dirvi che, per la mia esperienza di oggi, per quanto riguarda la performance degli ombretti, non mi ha dato nessun problema che non mi possa dare Anastasia. Perché anche Anastasia è molto polverosa e fa fallout. Cioè, ragazzi, non so io perché questa palette è così, come si dice, è così, tra virgolette maltrattata su YouTube. A me piace tantissimo. Poi la durata, ragazzi, questo è vero, non ve lo so dire, perché l'ho appena applicato. Però, cioè, la scrivinza, la sfumabilità è ottima. Cioè, poi per il prezzo, ragazzi, spendiamo anche 120-130 euro per Natascha. Ok, Natascha è Natascha, ma anche Clio è Clio, cioè nel senso è una makeup artist. Cioè, non so, non voglio paragonare le due persone come persone, ma io parlo di brand. Cioè, io lo trovo veramente bello, anche l'illuminante è stupendo. Guardate, cioè, sono veramente curiosa di vedere quando mi arrivano i blush. Per quanto riguarda i rossetti, ho applicato uno degli ultimi, penso che sia Bisù Bisù, perché veramente Clio è tanto che non guardo il sito di Clio e non ho più comprato niente. Ecco, però devo dire che i rossetti Creamy Love li preferisco a Liquid Love. Adesso, per esempio, ho preso Contè e ho preso Clio Confidential e risultano chiari, ma poi diventano troppo scuri e a me adesso, come adesso, non fanno impazzire. Poi, vabbè, sono più secchini. Preferisco, diciamo, questi qui, che comunque hanno una patina leggermente satinata, ma poi con il tempo si asciugano e diventano più matte. Secondo me comunque sono dei rossetti che vale la pena avere, perché sono confortevoli. A me piacciono, mi piacciono di più dei rossetti liquidi, quello sì. Il mascara è eccezionale, però diciamo che il mascara, secondo me, ha copiato un po' lo scovolino di Too Faced, del Better Than Sex. È uguale lo scovolino e comunque, vabbè, io mi sono trovata veramente bene. Non ho applicato ciglia finte, non ho applicato niente. E per quanto riguarda il correttore, l'ho messo lì e non l'ho fissato con la cipria. Adesso è un po' che è lì e devo dire che non è entrato nelle pieghe, perché non c'è il colore più scuro, perché se no, wow, questo qua lo posso utilizzare come colore illuminante. Ma io posso dire che spero che Clio faccia presto un fondotinta che ci stia lavorando e che lavori alle terre, che faccia proprio un bel sito completo, perché penso di acquistare, che faccia primer, che faccia tutto, perché ragazzi a me questo prodotto piace veramente tantissimo. Spero ragazzi che questa recensione per quanto riguarda la palette e alcuni prodotti di Clio Makeup vi sia piaciuta. Mi spiace veramente non avere il blush, ma purtroppo non me l'hanno mandato per errore loro, però arriverà. E quindi niente ragazzi, spero che questo video vi piaccia. Se vi è piaciuto lasciatemi un bel like e lasciatemi giù sotto nei commenti cosa pensate voi di questa palette, se l'avete provata, se vi piace oppure no. Vi mando un enorme bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!